Mister, terza amichevole per il campionato 0-0, un commento su come è andata la partita? È un'ottima prestazione, questa partita ci fa conoscere, ci fa crescere, una squadra importante, quella del figlino, e quindi devo dire che i ragazzi sono stati bravi, è chiaro che dobbiamo ancora crescere tantissimo, il reparto chiaramente difensivo è quello più collaudato, siamo cresciuti a livello di centrocampo, con i giovani, e in attacco dobbiamo ancora crescere, chiaramente abbiamo avuto delle buone occasioni, però bisogna sfruttarle un po' di più. Però nel complesso abbiamo fatto una buona prova con una squadra importante, che ci ha fatto capire che non è nulla dovuto, quindi continuo a battere su quello, dobbiamo chiaramente crescere sia a livello fisico, sia a livello di conoscenze, anche a livello mentale, e queste partite ci stanno facendo veramente crescere. Nelle ultime ore è stato disserato a Polloni, che ha subito debuttato nel secondo tempo. Sì, anche lui fa parte del discorso di conoscenza, giocatore che l'abbiamo scelto fra tanti centrocampisti, è una mezzala che ha caratteristiche diverse di quelle che abbiamo, quindi penso che la società mi ha accontentato perché cercava una mezzala con queste caratteristiche, quindi ha fatto un buon esordio, ha avuto delle buone situazioni, delle buone ripartenze, si vede che è un giocatore che è una mezzala offensiva, è quello che cercavo.